Pronto? Qui è la panetteria Ricci. Senta, qui mi hanno ordinato 320 pezzi di focaccia. Non lo so, li devo portare perché mi è sembrato che era uno scherzo telefonico. Ma guarda, di qua io non ho telefonato niente. No, perché mi hanno detto che era un bidello, ha parlato e dice che era un bidello, Nicola. Non lo so ma chi è. Un attimo solo, eh. Vabbè. Sì? Pronto? Dimmi. La focaccia la devo portare o no? A chi la devo portare? Eh, siccome c'è stata ordinazione. Eh. La porto o no? Focaccia. Eh. Porto la mamma, la focaccia, sei bravo. Eh, ma senta che, mo' glielo dico il padrone, eh. Sì. Occhiamo, vieni qua, Nicolino. Certo? Nicola? Chi è? La focaccia te la puoi mettere in cubo? No, te la devi mettere in bocca alla morte da mamma, te. Tramau. Ma fa mocca alla chiave di tutto la settimana giornata. Corro! 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 Tu sei una puttana! Ragazzi, aspetta l'edito, tu hai la finestra, tu hai la torta. Sì. Tu hai tutta la razza e tu hai la chiave. Corro! Ti ha mangiato qui, Dio. Eh, vieni, d'oca. Non è che muoca. Non è che muoca.